Sono molto contento perché abbiamo affrontato tante emergenze, ma mentre affrontavamo le emergenze abbiamo messo mano a riforme che in tanti decenni in Calabria non erano state prodotte. L'anno scorso quella dei rifiuti, dell'idrico, della protezione civile, quest'anno quella dei consorsi di bonifica. Abbiamo posto fuori dalla liquidazione Solical e stiamo facendo in modo che Solical si occupi dei depuratori della Calabria. Siamo a buon punto con il bando per il termovalorizzatore, avendo concluso la manifestazione di interesse. Tutte questioni che riverbereranno i loro effetti quando io non sarò più presidente, ma io ho l'obbligo di consegnare a chi verrà dopo di me una regione migliore di come è stata consegnata a me, soprattutto l'obbligo di consegnare ai calabresi una regione migliore. Sono molto felice anche del nuovo racconto che stiamo facendo nella Calabria. Nella Calabria si parlava negli anni passati soltanto come di una regione di mafia, di indrancheta, di problemi. Mai emergevano aspetti positivi. Oggi la Calabria ha un accreditamento istituzionale e anche mediatico a livello nazionale che non ha mai avuto. C'è grande attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee, la presenza di autorità importanti in Calabria nelle ultime settimane lo dimostra e soprattutto la Calabria va sui giornali nazionali per buone pratiche, va sui giornali nazionali per l'attività che abbiamo svolto con i droni, che è un'attività che ha segnalato la Calabria come una regione modello e che sarà replicata in tutta Italia e anche in Europa l'hanno guardata con grande interesse. Va sui media nazionali per l'abbattimento di ecomostri costruiti dall'andrancheta, va sui media nazionali per tante attività del governo regionale che però hanno per obiettivo quello di fare un racconto della Calabria diverso rispetto al passato.